La signora J. Armini ruba le salsine. De acustica. Allora si vede robottanissima. Questa è casa sua e io sono Giulia Robertson. No, non ce ne frega niente. Allora si. Tutto lei, eh? Cinque stelle superiore, Rashape Sheik. Mi ha regalato Gaia. Gaia lei! No, no! Domenico, dalle secche. Allora si. 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 Allora si.